Ripartiranno da oggi i lavori di completamento dell'oratorio della parrocchia Santa Maria delle Grazie di Agropoli. Iniziati nel 2010 con il sossegno dell'amministrazione comunale, finora sono stati già portati a termine tutto il primo piano, che ospita sei stanze e due bagni, quotidianamente utilizzato da tantissime associazioni. La sala polifunzionale Giovanni Paolo II, divenuto ormai punto nevralgico di tantissime manifestazioni cittadine, e la ristrutturazione esterna dell'edificio. Dai due piani di cui era costituita in passato la struttura se ne sono ricavati tre. Il primo è rimasto com'era, al secondo è stato abbassato il soffitto e da lì se ne è ricavato ancora un terzo. I lavori di ristrutturazione di questi tre piani però non sono ancora iniziati, o meglio, partiranno da questa settimana. Mentre il primo piano sarà momentaneamente tralasciato in quanto necessiterebbe solo di una ristrutturazione parziale, adesso ci si concentrerà sul secondo piano, totalmente aperto, dove si provvederà a realizzare la pavimentazione e la suddivisione dello spazio in sei stanze, più la relativa impiantistica. Per il completamento di questa fase, realizzata in economia, serviranno circa 43 mila euro. Ci sarà poi da mettere mano all'ultimo piano, attualmente irraggiungibile, in quanto ancora non è stata realizzata la scala per permetterne l'accesso e di conseguenza i lavori. Solo alla fine, terminata tutta la parte strutturale, bisognerà prevedere anche l'addobbo interno delle varie stanze, con tavoli, sedie, mensole e quanto necessario per permettere le varie attività che qui si svolgeranno.